Controlli a tappeto della Guardia di Finanza di Taranto per la verifica della regolare percezione del reddito di cittadinanza. Segnalate alla Procura della Repubblica di Taranto oltre 220 soggetti, risultati aventi diritto e emolumenti per circa 1 milione e 900 mila euro. Gli accertamenti sono stati svolti con l'ausilio del Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frudi Comunitarie di Roma e di concerto con l'Inps. I beneficiari del reddito di cittadinanza avrebbero attestato falsamente nelle istanze di accesso il possesso dei requisiti previsti dalla normativa di settore, ovvero omesso di dichiarare informazioni dovute. Tra le principali presunte violazioni riscontrate sarebbe stato accertato la mancata sussistenza del requisito di cittadinanza, lo stato di detenzione presso case circondariali e la comunicazione di false informazioni relative alla composizione dei nuclei familiari conviventi. E' stata avanzata l'autorità giudiziaria inquirente una richiesta di sequestro di beni per un importo di circa 1 milione e 900 mila euro pari alle somme indebitamente percepite. Nell'ambito delle indagini sarebbero stati scoperti anche 10 lavoratori nero e irregolari che avrebbero indebitamente percepito il reddito di cittadinanza o che sarebbero risultati componenti di nuclei familiari beneficiari della provvidenza. Le posizioni così individuate sono state immediatamente segnalate ai competenti uffici dell'Inps. Per il principio di presunzione di innocenza la responsabilità delle persone sottoposte a indagini sarà definitivamente accertata solo dove intervenga una sentenza irrevocabile di condanna. I risultati di servizio conseguiti testimoniano l'impegno della Guardia di Finanza e della Procura della Repubblica Tarantina nell'azione di tutela della spesa pubblica con particolare riguardo alle misure assistenziali di sostegno al reddito.